Via libera al piano generale del traffico urbano di Milano che ha avuto l'approvazione definitiva da parte della giunta comunale. Il percorso istituzionale prevede ora il passaggio in commissione mobilità per l'approvazione finale da parte di Palazzo Marino. L'obiettivo dichiarato è quello di far diventare l'area C definitiva con la cristallizzazione del pagamento di un ticket per gli automobilisti all'interno della cerchia dei bastioni. Uno dei provvedimenti a cui l'amministrazione di centro-sinistra ha sempre tenuto in modo particolare. Di fatto area C ha migliorato la qualità della vita dei residenti nella zona del centro e questo è un dato piuttosto diffuso. Poi il consenso è ampio su area C, ne abbiamo avuto le testimonianze dirette, non può esserci un unanimismo perché è un provvedimento comunque difficile e coraggioso per un'amministrazione perché di fronte a problemi così importanti bisogna fare provvedimenti difficili e coraggiosi. Secondo la maggioranza dunque non si tratta solo di uno strumento che consente di raccogliere denaro per le precarie casse comunali ma anche per spingere i milanesi ad un nuovo modo di vivere la città. Una visione programmatica e politica che però è decisamente contestata dalle forze di opposizione che siedono a Palazzo Marino. Mi sembra che questa amministrazione non si renda conto delle difficoltà che pone i cittadini non avendo tra l'altro un vantaggio significativo da un punto di vista della riduzione dell'inquinamento perché non entrano le macchine ma entrano le moto e due moto inquinano come una macchina. Ora io non sono del parere che non debbano entrare le moto, anzi i cittadini hanno bisogno di muoversi ma penso a quelli che vengono da fuori città a lavorare e sono tanti. Si parla di 7-800 mila cittadini che usano questa città e che producono ricchezza. Ora io mi auguro che riflettano tenendo un po' i piedi per terra e non andando in una direzione che a parere mio è equilibrata.